Ho seriamente paura di quello che sto per andare a fare Se questo video raggiunge 15.000 like, io e Alessio ci facciamo un tatuaggio insieme Porco due se lo facciamo Lasciate immediatamente like Salve a tutti ragazzi, salve a tutti ragazzi e ragazze Io sono Sophie Snowing, oggi sono occupa di fare un video molto speciale Questo è il video del mio primo tatuaggio dove vi farò vedere il mio fantastico tatu Prima di iniziare vi lascio appunto alla preparazione e al momento in cui l'ho fatto Cioè non so come chiamarla sta cosa Quindi niente, buon divertimento Mamma illustra cos'è questa cosa Grazie mamma, quanto amore Complimenti Allora, allora, allora Mamma ci illustra che cos'è quello che c'è qua dentro Dentro c'è l'enne Ah oh, ma te l'ho detto che tipo devi andare a seguire immediatamente la pagina del team Sivessio su Instagram Questo è il nome, link in descrizione Ti pare che c'è un casino della madonna Acquista immediatamente le due fasce della medaglia C'è anche la maglietta, guarda Compralo cliccando il link qui sotto in descrizione Compralo, compralo, compralo Compra le due fasce della medaglia Ok, questo è Altra pasticceria Vabbè, pasticceria in me Non muore, vai Ragazzi, applicherò violenza su mia madre Se questo cosa viene male Raga, mia madre ci ha appesato la mano Cioè, vederlo così è brutto Perché ovviamente c'è tutto sto strato Guarda Cioè, sembra male Pensandolo sulla mano Di parte Questa, ragazzi, è una cosa che effettivamente durerà due mesi Quindi non è una cosa che sarà eterna Quindi adesso dite Ah, vai, frega, guarda che brutto Ragazzi, è una cosa che comunque si leva in due mesi Poi questo qui è una cosa fatta abbastanza bene E anche questo mi piace Cioè, è carino È bello Io ho detto sto qui sul mio divanetto Con il mio fantastico aereo Il mio tatuaggio Qui ad aspettare che si asciuga In più sto guardando una serie su Netflix Veramente brutta Cioè, questo qua è tipo il terzo episodio La guardo e dico Che brutta Però la guardo perché effettivamente mi fa divertire Pazzesco Quindi commentate qui sotto Con delle serie da vedere Quindi, per favore Consigliatemi qui sotto delle serie Perché sono a ricerca di una serie fantastica E la più gettonata la guardo E poi se volete dopo ci faccio anche un video Eh, eh Abbiamo levato questo puntino Guardate, questo è quello che effettivamente rimane alla fine Ragazzi ho applicato una pellicola Qui sul mio tattoo Qui Che ho sul braccio E adesso andrò ad applicare la pellicola Anche qui Intanto si attacca da sola Qui ho tolto già lo stato sopra Invece qui non l'ho ancora tolto Perché essendo che questo è il tatuaggio A cui tengo di più Ho detto che a questo punto prefisco che si asciughi Poi è tardissimo Per questo Adesso io vi do la buonanotte Anche se quando guardate questo video saranno tipo le tre e mezza quattro Noi ci vediamo direttamente domani mattina Quando andrò a rimuovere la pellicola E questo andremo a vedere insieme i risultati Notte ragazzi A domani Ciao Fra 3, 2, 1 Salve Bello 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 Ah bello questo Ci siamo lasciati questa mattina Che era tipo prestissimo Adesso sono qui che sono le 11 di sera A finire questo vlog interminabile Questo ragazzi è il tatuaggio Diciamo la cosa finale come è venuto A parer mio mi piace tantissimo Ora dal video sembra un pochino brutto Tipo che non sembra manca un aereo Però dal vivo sembra veramente un aereo E in più quello proprio bellissimo Questo qui sul braccio Che continua qua dietro Ed è venuto veramente bene Cioè non me l'aspettavo così così Perfetto Questi dati oggi ragazzi vi ricordo che durano Uno o due mesi Quindi non preoccupatevi Non è che è una cosa permanente Ok Oh mio dio Tim Ma che cosa hai fatto A cui indifando Sei ruminata la pelle Molte ragazze specialmente indiane Si fanno queste cose per matrimoni O per feste Direttamente sulle mani Alcune le fanno pure qua sul collo Cioè io dico sulla mano Cioè qua sul palmo della mano Non lo farei Comunque ragazzi Io spero che questo video in qualche modo vi sia piaciuto Seguitemi immediatamente su Instagram E seguite immediatamente anche la pagina di me e Alessio Quindi niente Io vi mando un bacione enorme Mi raccomando Seguite tutti quanti i miei social network Vabbè sapete già tutto E niente Ave e spero che ciao belli Ciao ciao